Buongiorno a tutti, sono con Mellaro, giocatore della Pineta Sacchetti, che oggi ha giocato e ha pareggiato la partita contro l'Unicredit, una partita tosta, risultato comunque giusto e ti volevo chiedere innanzitutto un'impressione sulla partita. Peccato per il risultato perché abbiamo subito il gol negli ultimi dieci minuti, però la prestazione è stata buona, abbiamo tanta assenza, la squadra è rimasta equilibrata, abbiamo anche provato a giocare a palla a terra, quindi spiace per il risultato, però è un'ottima prestazione e quindi è un po' un auspicio per le prossime partite. Senti, ho visto anche un bel gruppo sia in campo che fuori, in tribuna c'erano alcuni giocatori infortunati, comunque sempre pronti a sostenere la squadra e questo tipo di chimica nasce spontanea oppure ci si lavora? Nasce spontanea e ci si lavora, nel senso che noi siamo un gruppo particolare, abbiamo persone che vengono da tutti i paesi, quindi oltre che una squadra di calcio questa è una squadra che a livello sociale cerca di integrare tutte le persone, quindi questa è la nostra forza e questa poi la riferiamo in campo con la partita. Siamo sempre ai valori importanti. Poi l'ultima, dove pensi possa arrivare quindi la fine dei sacchetti? Qual è l'obiettivo? Il nostro obiettivo comunque è mantenere la categoria perché siamo a neopromossa, abbiamo iniziato bene il campionato con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, quindi comunque siamo abbastanza soddisfatti dei risultati e delle prestazioni. Perfetto, allora ti faccio i complimenti e ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie.